Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Francesca Romana, prega per noi, Santi Angeli Custodi, pregate per noi. Cari fratelli, care sorelle, oggi vogliamo meditare sulla vita di Santa Francesca Romana e il rapporto di lei con i Santi Angeli, perché noi siamo dell'opera dei Santi Angeli. Vogliamo imparare qualcosa della vita di Santa Francesca Romana. Lei è nata in 1384. Questo era un tempo molto difficile nel mondo, nella Chiesa. Il tempo dopo che i Pappi sono stati in Francia, in Avignone, anche è il tempo del sisma nella Chiesa. La Chiesa è divisa. Erano due fino a tre Pappi allo stesso tempo. Questo è molto difficile. Guerre, carestie, la peste, malattie. In questo tempo Francesca è nata a Roma. Roma stava in rovina. Le persone erano poveri. La madre di Francesca ha educata la santa realmente nella fede. Francesca è andata con la mamma alle Chiese. Ha pregato insieme con la sua mamma. E così, con sei anni, la piccolina già voleva entrare nella vita religiosa. Ma il suo papà aveva altre idee. E così Francesca doveva obbedire al suo padre e soltanto con dodici anni è sposata con Lorenzo Ponziano. E così lei diventa una delle donne più ricche di Roma, di famiglia nobre. E così possiamo capire che Francesca stava con una tristezza. Ma perché? Un giorno la sua cugnata Vanozza ha trovato Francesca piangendo e domandava ma che cosa c'è? E Francesca apre il cuore e dice io volevo essere religiosa e sono sposata. Vanezza dice ma con me è la stessa cosa. E a partire di questo momento queste due donne hanno cominciato un'amicizia spirituale durante 36 anni. Hanno pregato insieme. Hanno aiutato i malati nella città. Una amicizia vera e profonda. Anche noi abbiamo bisogno di queste amicizie onde dove possiamo parlare del cuore, dell'intimo a un'altra persona. Condividere le nostre idee e cose del cuore e anche le sofferenze e le gioie. Va bene. Queste due hanno cambiato una stanza nel palazzo e hanno fatto una cappella per pregare. E tante notte loro sono andate alla cappella per pregare. con quindici anni Francesca è ammalata gravemente e un giorno prima della festa di Santo Alessio lui apparve a Santa Francesca e ha detto tu devi vivere perché il Signore vuole che tu rimanga nel mondo per la gloria e onore del suo Santo Nome. In quello stesso istante lei guarì. Quindici anni. In questa età Dio ha dato a Santa Francesca Romana una grazia molto speziale. Lei ha ricevuto un angelo del nono coro che ha accompagnato Francesca durante quattordici anni. qual era il compito di questo angelo? Correcciala, purificala. Lei lo sentiva ma non lo vedeva. E questo angelo della purificazione vicinava sul suo pensiero su parole e atti. ma possiamo domandarci ma perché Dio ha dato questo angelo? Lei non ha avuto un angelo custode? Certamente. Lei ha ricevuto questo angelo con quindici anni. Lei non è stata senza angelo i primi quindici anni. Nella storia della chiesa abbiamo alcuni esempi che Dio ha dato a un santo, a un'altra persona, un secondo angelo che accompagna, che ha un compito specifico con quest' anima. per esempio San Petro Canisio lui è stato a Roma anche, ha fatto i voti solenni, i perpetui, nelle mani di Santo Inazio e prima lui è andato al Vaticano perché lui voleva chiedere l'aiuto di San Petro e di San Paolo per la sua missione in Germania. apparve il Sacro Cuore e lui ha ricevuto per la sua missione un secondo angelo per la sua missione sacerdotale. Perciò l'angelo custode ha accompagnato durante tutta la vita il santo ma per il suo compito per la sua missione ha ricevuto un altro angelo. va bene un giorno posso dare un esempio come questo angelo ha fatto il suo lavoro non alle volte è forte un giorno la santa Francesca è stato in una sala con alcune donne una conversazione superficiale e cose che non erano così buone ma santa Francesca non non aveva il coraggio di dire alle altre donne questa conversazione non è aggradabile a Dio temore di uomini che cosa succede Francesca ricevete un scafio così sonoro e forte che lo sentirono tutti e che le lasciò un segno sulla guancia per molto tempo questo fatto fu di insegnamento per tutti ma chi ha dato questo scafo il confessore di santa Francesca romana molto tempo dopo ha detto domanda il santo arcangelo questo è il secondo angelo che ha accompagnato santa Francesca durante 24 anni il confessore ha detto domanda l'arcangelo chi ti ha dato un schiaffo l'arcangelo rispose era il tuo angelo custode invisibile questo del nono cuore per educarla è forte ma realmente Dio non vuole il peccato dobbiamo avere coraggio di dire la verità e non rimanere sito per causa di paure degli altri una cosa per imparare anche per noi non è così che devo parlare male delle altri ma noi dobbiamo avere una postura una firmezza noi dobbiamo difendere Dio e la nostra fede nel tempo di oggi con l'aiuto di questo angelo del nono cuore maturò un atteggiamento positivo verso il sacramento del matrimonio io ho parlato che lei è stata alle volte triste a 17 anni quando divenne madre l'angelo la guidò nel lasciare le penitenze più severe per amore di suo figlio battista l'aiutava a capire i doveri materni come l'educazione e l'accudimento sono così aggradabili a Dio come le preghiere durante tutta la notte nella cappella è molto interessante come l'angelo ci aiuta di accettare di vivere bene la nostra vocazione che ciascuno di noi ha Dio vuole una vita in gratitudine e gioia non nella tristezza la tristezza non viene di Dio impariamo di questa lezione dell'angelo a Santa Francesca Romana Santa Francesca ha dato la vita a sei figli per troppo tre sono morti dopo della nascita e due figli sono morti nella età di fanciulle il suo figlio molto amato evangelista è morto con nove anni per causa della peste adesso un anno dopo della morte lui apparve alla sua madre insieme con un arcancelo quando Francesca ha visto il suo figlio ha detto figlio del mio cuore sei veramente tu l'evangelista rispose madre sappi che questo compagno che tu vedi con me e che è molto più bello di me questo spirito celeste è inviato a te dalla maiestà divina per consolarti nel tuo pellegrinaccio terreno tu lo vedrai giorno e notte al tuo fianco lui ti aiuterà in tutto vogliamo ripetere che cosa ha detto il figlio alla sua madre che lei riceve un regalo speziale della parte di Dio un arcancelo vediamo qual è il compito di questo arcancelo perché è diversa il compito è diverso del primo angelo perché sennò il primo poteva continuare il suo lavoro vediamo dopo seconda cosa il figlio ha detto questo angelo è inviato per consolati nel tuo pellegrinaccio terreno vuol dire la madre deve soffrire abbastanza chi segue Cristo sta nella via grucis ma Dio manda anche la consolazione divina vale anche per noi la croce sta presente ma la grazia la pace la consolazione la forza Dio anche ci dà molto speciale Francesca può vedere l'angelo giorno e notte lui ti aiuterà in tutto nella vita familiare nella lotta contro i diaboli nella missione come madre del popolo romano è un regalo così grande che Dio ci dà l'aiuto dei santi angeli al nostro fianco per proteggerci per aiutare nella nostra missione nella lotta nella nel rapporto con Dio e con gli altri queste arcangelo rimase con lei per ventiquattri anni lei non poteva vedere il volto dell'arcangelo perché troppo luminoso ma mentre pregava o nella lotta contro i demoni o nel colloqui con il confessore poteva fissare lo sguardo il nostro angelo custode è anche così grande non possiamo vedere a lui ma l'illuminazione di lui l'aiuto la protezione lui ci dà dobbiamo credere dobbiamo avere fiducia in queste aiuto invisibile quanto Francesca mancava di fiducia in Dio o era oppressa delle preoccupazioni o aveva fatto uno sbaglio il suo compagno celeste svaniva così l'arcangelo faceva anche da specchio alla sua anima molto interessante ma come possiamo capire questo il nostro angelo custode per esempio si allontana di noi quando abbiamo fatto peccato lui rimane con noi ma quando sta scritto che lui svaniva vuol dire noi abbiamo chiuso l'anima e la grazia di Dio non può entrare in noi senza ostacolo queste svanire significa c'è una porta chiusa una finestra chiusa tra Dio e noi perciò quando Francesca pentiva lo sbaglio il peccato o ha avuto nuovamente fiducia lei ha visto l'angelo più bello ancora è importante per noi nella vita cristiana di avere un cuore puro e quando abbiamo fatto un sbaglio vogliamo pentire il nostro peccato così l'amicizia con Dio con Maria Santissima con i Santi Angeli rimane più più forte uno sguardo benevolo dell'arcangelo era suficiente a sciogliere i dubbi e le paure e restituirle la gioia così i Santi I Angeli ci aiutano nella nostra vita quotidiana alla luce soprannaturale dell'arcangelo lei riconosceva i pensieri degli uomini questa è anche una grazia molto grande Francesca Romana ha visitato le famiglie le le persone con malattie i peccatori e nella luce dell'arcangelo lei ha saputo quale è il problema di questa famiglia odio adulterio alcol un'altra cosa mancanza di fede e con la sua tenerezza con il suo amore con la sua pazienza guidava le persone fino alla conversione fino alla riconciliazione con Dio perciò i Santi Angeli ci aiutano Santa Francesca aveva 29 anni quando ha ricevuto il Santo Arcangelo con 30 anni si amalò di peste e lei è rimasta da sola nessuna persona ha visitato a lei ma il Santo Arcangelo è rimasto insieme con lei fonte della consolazione una volta in questi mesi difficili lei ha avuto una estase lei ha avuto molte ma una estase e lei ha visto il compito dei Santi Angeli e dopo di alcuni giorni lei guarì un altro esempio dell'aiuto del Santo Arcangelo come Santa Francesca ha con la grazia di Dio ha convertito tante persone il diabolo aveva un odio molto grande contro lei era un combattimento contro i diaboli lei ha visto i Santi Angeli ma anche i diaboli una volta lei stava con il nipote Ceronimo nelle braccia e il diabolo ha fatto un attacche contro Santa Francesca Romana che anche il bambino ha pianto lei ha pregato con lui ha fatto il segno della croce ma il diabolo non voleva andare via adesso le persone hanno visto che il bambino in un volo è stato messo nel letto ma che cosa è questa semplicemente la cancello ha preso il bambino ha messo nel letto e ha fatto una protezione con si stesso con la sua luce e il diabolo non poteva fare niente un altro caso un attacche dei diavoli era era così forte che l'angelo ha fatto anche una protezione con la luce con la grazia e loro non hanno visto più la santa possiamo chiedere la protezione dei santi angeli contro gli attacchi del demonio è molto importante di chiedere questa protezione non abbiamo la forza di resistere da solo a questi attacchi perciò Dio ci manda i santi angeli come aiuto adesso quando il suo marito è morto Santa Francesca è libera e entra nella vita religiosa già tre anni prima dodici donne hanno cominciato questa fondazione delle poplate di Maria ma lei è rimasta più tre anni con il marito fino alla morte adesso lei è entrata nella nel convento e nel stesso giorno hanno eletta Francesca come superiore in quel giorno 25 marzo l'arcangelo ha fatto un sorriso è venuto un altro angelo più più bello più forte ancora che ha accompagnato Santa Francesca nelle tre ultime anni della sua vita adesso questo angelo aveva tre rami di palma d'oro nella mano sinistra sempre da cui uscivano tre fili d'oro li ha messo al collo o ne ha fatto dei gomitoli è un mistero ma che cosa significa tutto questo un giorno San Benedetto è apparsa alla Santa gli ha dato una spiegazione l'oro significa l'amore a Dio e l'amore al prossimo con quale dovrebbe guidare le sue figlie questo vale anche per le famiglie i genitori devono educare e guidare i figli con queste oro con l'amore l'amore ha la forza più forte nella educazione i rami di palma significano che deve agire con coraggio le palme sono simboli dei martiri della fortezza dobbiamo dobbiamo coraggio e non dobbiamo avere si paura delle persone con coraggio fare la volontà di Dio e questo lavoro regolare dell'angelo significa che Francesca deve essere prudente e lottare sempre per l'ordine e il progresso della comunità anche nelle famiglie si deve educare continuamente anno per anno i figli non soltanto all'inizio sette mesi prima della morte di Francesco l'opera del santo angelo cambia su un telaio tesse un pezzo o tre pezzi di tela questi tre preziosi tessuti erano simboli della virginità del matrimonio e della vedovanza della vita religiosa di Santa Francesca Romana questo angelo ha portato Santa Francesca alla pienezza dell'amore alla fecondità nel amore quando lei è morta ha detto alle suore io vi lascio la mia tenarezza materna che l'amore faccia di voi un anima sola dopo ha detto i cieli sono aperti gli angeli scendono l'angelo ha fatto il suo lavoro si pone davanti a me e mi invita a seguirlo e così Santa Francesca ha consegnato l'anima al suo creatore che cosa possiamo imparare della vita di Santa Francesca Romana vogliamo includere questi pensieri nella prechiera del Santo Rosario nel primo mistero possiamo chiedere Santa Francesca Romana che ci aiuti di vivere bene la nostra vocazione con gratitudine e con gioia che lei ci aiuti di allontanare la tristezza che non viene di Dio nel secondo mistero chiediamo i santi angeli che ci aiutino nella purificazione del nostro anima di non pecare che non c'è ostacoli tra Dio in noi è difficile ma è importante nel terzo mistero chiediamo i santi arcangeli che ci aiutino nella lotta contro il diaboli che ci aiutino realmente nella nostra missione di fare il bene che ci aiutino di discernere gli spiriti nel quarto mistero chiediamo i santi angeli che ci aiutino di vivere in pienezza l'amore Dio è amore e lui vuole che anche noi come figli viviamo l'amore nel quinto mistero chiediamo una buona ora di morte questo è importante la fedeltà la perseveranza nella nostra vita cristiana fino all'ora della morte che santa francesca romana ci aiuti di essere fedele a Dio alla nostra famiglia alla nostra vocazione io vi do la benedizione per intercessione di Maria Santissima San Giuseppe Santa Francesca Romana e i Santi Angeli vi benedica e protecca Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Ami